Siamo stati praticamente due anni senza lavoro, senza un reddito, senza stipendio. Sono rimasto a piedi. Per fortuna, dopo vari tentativi, ho avuto la possibilità di conoscere una persona. La nostra gente è la gente che passa nel nostro centro di urno provenendo dalla strada. Abbiamo anche la Tendopoli, in città, e lì andavano anche le sorelle se c'era la necessità di medicinali. Un lavoro che noi dobbiamo fare quando li prendiamo è togliere l'etichetta, togliere la maschera, che in qualche modo questi ragazzi si sono creati. Fare del proprio impegno un testamento quotidiano a vantaggio dei poveri, degli esclusi, delle persone più anziane, dei più piccoli. Per me la bellezza riguarda l'umanità. Ogni situazione umana, vera, è una situazione di bellezza.